Erano di nuovo in biblioteca, bella mia al solito posto dietro la scrivania, magrè in una delle poltrone di pelle. Entrambi stavano in silenzio, un silenzio che non aveva niente di imbarazzante, di ostile, ma dava luogo piuttosto a una sorta di distensione. Solo a questo punto, dopo essersi acceso la pipa, il commissario notò nel suo interlocutore un cambiamento, anche se non avrebbe saputo dire se si fosse prodotto da pochi minuti o fin dal giorno prima. Ora il dottore dava l'impressione di un uomo in preda a una grande prostrazione, ma deciso a dominarsi e resistere fino in fondo. Occhiaie profonde gli segnavano gli occhi e la carnagione era così pallida e così opaca che le labbra, per contrasto, parevano dipinte. Bellamy era consapevole dell'esame cui magrè involontariamente lo sottoponeva, ma non se ne preoccupava, e quando infine si scosse dal suo torpore, allungò la mano verso il pulsante del campanello. Per la prima volta il suo sguardo sembrò cercare un'autorizzazione. Non era proprio un sorriso quello che gli passò sul volto, ma come una schiarita, qualcosa di molto vago, di amaro, una sorta di ironia nei confronti del commissario, con un briciolo di tenerezza per sé stesso. Forse, premendo il pulsante, pensò che era l'ultima volta che poteva agire da uomo libero e ricco in quell'ambiente che aveva creato con tanta cura. Il passarsi la mano sulla fronte fu come un tic quel giorno. Nei pochi istanti che precedettero l'arrivo del domestico lo fece ben due volte. Del whisky per me, ordinò. E per lei, signor Maigret? Benché non sia l'ora, berrò qualcosa di forte, un acquavite o un armagnac. Quando il vassoio fu posato sul tavolo e i bicchieri riempiti, il dottore, che teneva una sigaretta accesa tra le dita, disse con aria sognante, ci sono varie soluzioni, come se si trattasse semplicemente d'un problema che dovevano risolvere insieme. Ma solo una, è quella buona, gli fece come greco non sospiro. Poi si alzò pesantemente e si avvicinò al telefono sulla scrivania. Permette? Pronto, signorina, mi dia il 118 alla Rochurion, per favore. Come dice? Me lo passa direttamente? Pronto. Vorrei parlare con il giudice istruttore Alain de Folletier, da parte del dottor Bellamy. Bellamy, sì. Pronto? È lei, signor giudice? Qui, Maigret. Come dice? Ma no, sono nel suo studio e glielo passo subito. Credo che voglia chiederle di raggiungerci al più presto. E come se si fossero messi d'accordo prima, passò il ricepitore a Bellamy che lo prese con aria rassegnata. Per un attimo i loro sguardi si erano incrociati. E questo era bastato ai due uomini per capirsi. Sono io, Alain? Sì, effettivamente vorrei che tu venissi qui non appena ti sarà possibile. Ah, è così? Conoscendoti ho paura che se ti metti a tavola ne avrai fino a metà pomeriggio. Non potresti, in via eccezionale, accontentarti di un panino e saltare in macchina? L'ha presa tua moglie per andare a Fontenay? Beh, allora prendi un tassì. Sì, ti aspettiamo. È piuttosto importante. Riattaccò e di nuovo nella stanza ci fu silenzio rotto poco dopo dallo squilo del telefono. Bellamy sembrò chiedere il permesso di rispondere e Maigret glielo accordò con un batter di palpebre. Pronto? Sì, mamma, no, ne ho ancora per un bel po'. Ma no, fa pure colazione da sola. Io non scendo. Quando ebbe posato il ricevitore disse, non ha lo straccio di una prova, lo ammetta. Proprio così. Non aveva niente di arrogante Philippe Bellamy. Non sfidava il suo interlocutore. Constatava semplicemente, senza trionfalismi. Avevano l'aria di due uomini intenti ad analizzare con pacatezza i dati di un problema. Non so che argomenti userà con Alain, ma dubito molto che allo stato attuale dell'inchiesta le sia possibile ottenere un mandato d'arresto. E non solo perché Alain è mio amico. Qualsiasi giudice istruttore si terebbe ad assumersi una simile responsabilità. Allora bisogna che me l'assuma io, disse Maigret. Non crede, dottore, che ci siano già state abbastanza vittime? Bellamy chinò la testa e forse lo fece solo per guardarsi le mani. Sì, riconobbe poi. L'ho pensato giusto prima che lei arrivasse. Da due giorni, osservando i suoi movimenti, seguo il filo dei suoi pensieri quasi ora per ora. E questa mattina ho intuito prima di lei il ruolo di Olga. Poi, quando l'ho vista andare di porta in porta lungo il Ramblè, ho capito che sarebbe arrivato fino a lei. Ma io ero in vantaggio, commissario. E mentre lei continuava a interrogare la gente, avrei potuto suonare la piccola porta sul retro. Crede che sarebbe bastato? Le faccio presente che anche con la testimonianza di Olga lei non ha prove contro di me. Solo congetture, sulla base delle quali nessun giudice condannerebbe uno nella mia posizione. Vorrei farle capire che non avrei alcuna difficoltà a tenere testa alle accuse e, con ogni probabilità, ne uscirei, se non proprio con tutti gli onori, quantomeno da uomo libero. Ciò detto, parve sfiorare l'ambiente circostante con uno sguardo carezzevole, in cui si coglieva ancora una volta una punta di ironia. Solo che... solo che, lo interruppe Maigret, sarebbe stato costretto ad allungare la lista e cominciava ad averne abbastanza, vero? Anche dandosi da fare non avrebbe fatto in tempo. C'è una cosa, infatti, che ha dimenticato una persona. Per il resto, ha agito da solo. Un piccolissimo dettaglio l'ho obbligata a chiedere l'aiuto di qualcuno. Con le sopracciglia grottate, il dottore rifletteva come se si fosse trattato di risolvere un'equazione. La cartolina, gli suggerì il commissario, quella cartolina che è stato necessario imbucare a Parigi senza esserci. Basta che domani io vada laggiù, faccia convocare sua suocera nel mio ufficio al chede sorfevre e la interroghi se occorre anche per delle ore. Lei, capisce, finirebbe per parlare. Può darsi. Guardi, glielo confesso, questa è una delle cose che mi hanno più incuriosito. Come ha fatto a procurarsi una cartolina di Parigi? Ho girato dappertutto senza trovarne neanche una. Il dottore si strinse nelle spalle, si alzò e andò a prendere qualcosa in un cassetto. Come vede, non mi sono preoccupato di far sparire le altre. Devo averle comprate un giorno da un poveraccio per strada o da un ambulante. Sono in questo cassetto da anni. Aveva teso a Maigret una busta che conteneva una ventina di cartoline molto dozzinali e sulla quale si leggeva le grandi città di Francia. Non l'avrei neanche creduta capace di imitare così perfettamente una scrittura? Non l'ho imitata. Maigret alzò la testa di scatto, stupito, ammirato. Che cosa vuol dire? Che l'ha scritta lui? Sotto sua dittatura? Il dottore scrollò le spalle con l'aria di dire che era troppo facile e quasi contemporaneamente tese l'orecchio facendo cenno a Maigret di non muoversi. Poi, in punta di piedi, si diresse non verso la porta che dava sul corridoio, ma verso quella della stanza adiacente e l'apri di scatto. Apparve la cameriera molto imbarazzata. Bella mi fece finta di credere che fosse arrivata solo in quel momento. Deve dirmi qualcosa, Jeanne? Finalmente la vide anche Maigret una ragazza magra, piatta e senza fianchi, con un viso sgradevole, i lineamenti irregolari e i denti guasti. La credevo a tavola e venivo per le faccende. Preferirei che andasse a fare le pulizie in ambulatorio, Jeanne. Prenda la chiave. Richiusa la porta, sospirò. Non avrei avuto bisogno di ucciderla, Jeanne, capisce? Non so che cosa pensi, fino a che punto sappia, ma anche se avessi fatto fuori mezza città, anche se fosse il più abietto dei mostri, nessuno riuscirebbe a strapparle una parola di bocca. E dopo una breve pausa aggiunse con un sospiro, mi ama, umilmente ma ferocemente, senza speranza, a dispetto dell'altro amore con il quale alimentava il suo. Lo amava e il fatto di dedicarsi con tanta abnegazione a Odette Bellamy era un'ulteriore prova del suo amore. Chissà se il dottore continuava a intuire i pensieri del commissario. Fatto sta che dopo essersi accesa un'altra sigaretta e aver bevuto un sorso di whisky, scosse la testa. No, si sbaglia, non è lei. Si interrompe un attimo, poi aggiunse con velata malinconia. È mia madre e anche lei mi ama, almeno credo, visto che è gelosa di me quanto io lo sono di mia moglie. Ma lei si domanderà come ho saputo. È molto semplice e molto stupido insieme. Nel saluttino di mia moglie c'è una piccola scrivania del Settecento in legno di rosa, sulla quale si trova tutto l'occorrente per scrivere, carta assorbente comprese. Ora, non c'è nessuno che detesti scrivere quanto Odette e spesso la prendevo un po' in giro per questo. Toccava sempre a me mandare due righe ai pochi amici per accettare o declinare un invito. È una mattina che mia moglie era in giardino e la mamma mi ha fatto vedere la carta assorbente. Pare che Odette abbia cambiato abitudini, ha detto semplicemente. La carta assorbente, infatti, era piena di tracce d'inchiostro, come se fosse servita ad asciugare una gran quantità di lettere. È semplice e stupido, vede? Si pensa a ogni cosa tranne che a dettagli di questo tipo. Tutto mi sembra così lontano adesso. E dire che non sono passate neanche due settimane. Ha scoperto le lettere? Sì, erano dove tutte le donne le nascondono, in mezzo alla biancheria. Emile parlava della loro fuga. Nell'ultima lettera c'erano tutti i particolari. Parlava con voce secca, un po' concitata. Era l'antivigilie. E lei non ha detto niente? Non ho lasciato trappelare niente. Doveva partecipare a una cena in prefettura, mi pare. Una cena per soli uomini, sì, in smoking. Ci è andato? Ho fatto atto di presenza. Dopo aver messo sua moglie in condizione di non poter uscire? Esattamente. Col pretesto che sembrava molto nervosa, cosa del resto vera. Le ho somministrato una medicina che in realtà era un potente sonnifero. Poi l'ho messa a letto e l'ho chiusa in camera sua. E all'appuntamento è andato lei? Già. Allora convenuta ero rientrato in casa. Ho dovuto solo aprire la porta che lei sa, quella della sala d'aspetto che dà sulla stradina. C'era una figura addossata al muro. Il ragazzo ha fatto un balzo. E lì per lì ho creduto che stesse per darsela a gambe, costringendomi ad inseguirlo. Lo ha fatto salire in ambulatorio? Sì, mi pare di avergli detto, vuole entrare un momento? Mia moglie non si sente bene e oggi non potrà seguirla. Maigret immaginava i due uomini nell'oscurità del vicolo. Il giovane tutto tremante, con una valigia in mano e i due biglietti per Parigi in tasca. Perché lo ha fatto salire? Il dottore lo guardò con stupore, come se con quella domanda Maigret non si fosse mostrato all'altezza della sua fama. Non potevo farlo lì per strada. Aveva già deciso. Un battito di palpebre. È semplicissimo, sa? Molto più facile di quel che si crede. Non ha avuto nessuna pietà. Ma non ci ho pensato. E anche adesso questa parola mi urta. Eppure lui la amava. Oh, fremente, il dottore sgocco a Maigret un'occhiata dura. Se lo pensa commissario vuol dire che non si intende di queste cose. Era innamorato, glielo concedo. Ma non innamorato di lei. Mi capisce? Non la conosceva neppure. Ma come poteva amarla? L'aveva mai vista lui malata o brutta. L'aveva mai vista debole e sofferente. Amava forse i suoi difetti, le sue piccole viltà. Non la conosceva. Quel che lui amava era la donna. Lei o un'altra sarebbe stato lo stesso. Sa che cosa lo seduceva più di tutto. Il mio nome, la mia casa, un certo lusso, una certa reputazione. Gli abiti che lei indossava, il mistero che la circondava. Le dirò di più, Maigret. Era la prima volta che gli risivolgeva con tanta familiarità. Sono sicuro di non sbagliarmi, mi creda. Senza di me, senza il mio amore, non l'avrebbe amata. Gli ha parlato a lungo? Sì, nella situazione in cui si trovava non poteva rifiutarsi di rispondere. Non trova. Bellamy, imbarazzato, distolse lo sguardo. Avevo bisogno di sapere, confessò sottovoce. Tutti i dettagli. Capisce tutti gli sporchi, piccoli dettagli. Lassù, dove visitava i pazienti. Nell'ambulatorio dai vetri smerigliati. Avevo bisogno di... Per una sorta di pudore, Maigret gli impedì di proseguire. Quando ho sentito del rumore, domandò. L'altro si scosse. Uscì dall'incubo che lo opprimeva. Sa anche questo, è chiaro. L'ho capito ieri. Quando ho insistito per visitare l'ambulatorio, e soprattutto quando ha aperto la finestra. C'era una spiegazione sola. Bisognava che sua cognata avesse visto qualcosa. Contrariamente quanto le ho dichiarato il primo giorno, mia cognata mi amava. Non so se fosse veramente amore, ma a volte penso che si trattasse di una sorta di rancore nei confronti della sorella. Lasciò vagare il pensiero e cercò poi di esprimerlo. Mia madre, Jeanne, Lily. È un po' come se le donne non potessero sopportare lo spettacolo d'un certo tipo, d'una certa qualità, d'una certa intensità d'amore. Sono stato scapolalungo, sa? E le mogli dei miei amici non facevano troppo caso a me. Ma quando ho avuto Odette, non poche di loro si sono mostrate interessate, poi indispettite e infine sono ricorsi ad atteggiamenti provocanti. Non ho mai incoraggiato mia cognata. Ho finto di non accorgermi di nulla. Preferisco risparmiarli particolari. Ho avuto modo di constatare che in lei c'era qualcosa di prepotentemente sensuale. Sua cognata la controllava. È probabile. E vedendo la luce accesa nello studio si deve essere incuriosita. Forse ha pensato che mi incontrassi con una donna. Questo l'avrebbe in un certo senso confortata rafforzando le sue speranze. Le avrebbe dato, insomma, secondo lei, dei diritti su di me. Ho aperto la porta, come ho fatto poco fa con Jeanne. Sono così abituato fin da piccolo a sentire dei frusci dietro le porte. Le ho detto una cosa qualunque, che ero con un paziente che per favore rientrasse in casa. È riuscita a vedere chi c'era nello studio? Non lo so. Forse. Ma non ha importanza. E lei è rimasto ancora lungo con il ragazzo? Un quarto d'ora circa. Mi chiedeva perdono. Prometteva di non rivedere più Odette. Parlava di suicidio. L'ha fatto scrivere? Sì. Con quale pretesto? Nello sguardo di Bellamy passò un lampo di stupore e quasi di rimprovero, come se fosse irritato di non trovare nel suo interlocutore una comprensione più profonda. Non c'era bisogno di pretesti. Credo che all'inizio non si rendesse neanche conto di quello che stava scrivendo. Lei aveva con sé la cartolina? Sì. Ed era sempre smoking? Sì. In che momento ha? Nel momento in cui ha finito di scrivere. Ho preso la cartolina e l'ho messa al riparo. Al riparo dal sangue. Lo avevo fatto sedere al mio posto e lui teneva ancora in mano la penna. Io stavo in piedi alle sue spalle e giocherellavo da un po' con il tagliacarte dal manico d'argento. È molto semplice, signor McGray. Quel ragazzo non poteva vivere, specie dopo le confidenze che gli avevo strappato. Le sue labbra fremevano appena, ma ora il commissario non si lasciava più ingannare. È caduto sul pavimento. Avevo previsto ogni cosa. C'era tutto il tempo. Ho sentito di nuovo un rumore dietro alla porta. L'ho socchiuso appena, ma mia cognata è riuscita a intravedere i piedi. Che cosa succede? Ha gridato. Ti ordino di entrare in casa. Il mio paziente ha avuto un collasso. Tutto qui. Non so se mi abbia creduto. Forse no. Eppure la spiegazione era plausibile. Come vede, avevo ragione quando all'inizio le ho detto che contro di meno c'erano prove. La sfido a trovare il corpo, commissario. Si finisce sempre per trovarlo, sospirò McGray. Ho passato gran parte della notte a farlo sparire, a cancellare tutte le tracce. Poi sono uscito per imbucare la lettera che sapevo di trovargli in tasca, quella per i genitori. Ce n'era anche una per i suoi datori di lavoro. E per spedire la cartolina a sua suocera? Esatto. Che reazione ha avuto sua moglie il giorno dopo quando è uscita da quel sonno artificiale? Non le ho detto niente e lei non ha usato fare domande. E tutto è finito lì tra voi? È così. L'ha vista ogni giorno comunque? Sì. E non si è mai tradito? No. Lei era sempre molto stanca, molto depressa. Le ho ordinato di restare a letto. È andato al concerto con sua cognata? Sì, non ho voluto cambiare le nostre abitudini. Che cosa contava di fare? Un gesto vago. Non lo so. Quando è che lì ha scoperto il tagliacarte? È stata lei dunque, esclamò Bellamy. Fin dal primo giorno mi sono chiesto che cosa l'avesse messa sulla pista giusta, commissario. Sapevo che sua moglie era ricoverata nella clinica in cui è morta lì e... Ha parlato nel delirio. E ha parlato del tagliacarte? Di un tagliacarte d'argento, sì. Accusava me? Sembrava stupito, quasi indignato. Al contrario, la difendeva. Ha gridato alla suora che l'assisteva che dovevano arrestare lei, che il vero mostro era sua moglie. Ah! Diceva parole che le brave suore si sono rifiutate di riferirmi. Parole oscene, sembra. Questo conferma ciò che le ho confidato prima. Poi, malgrado tutto, un po' curioso, è stata a sua marì desange ad avvertirla? Sì, e ho capito che nell'auto che vi riportava a casa dal concerto sua cognata doveva aver scoperto un indizio, probabilmente il tagliacarte. Proprio così. Era sorprendente vederlo considerare il suo caso con tanta lucidità, come se si trattasse di un problema che non lo riguardava. E tuttavia Maigret non si lasciava trarre in inganno. Lo sentiva attento ai più piccoli rumori della casa, quasi contasse i minuti durante i quali aveva ancora il diritto di comportarsi da uomo come gli altri. Pensi a che punto un sentimento banale può diventare importante. Avevo eliminato ogni traccia. Contro di me non c'era più nulla, neppure il minimo indizio. Solo quel tagliacarte che avevo pulito ha rimesso al suo posto sulla mia scrivania. Perché? Per abitudine. E perché mi piaceva la forma del suo manico. Forse anche perché lo avevo sempre visto lì e durante le visite ci giocarellavo distrattamente. La mattina dopo, rivedendolo allo stesso posto, ho aggrottato le sopracciglie. Mi ricordava un gesto troppo preciso. Ricordo allora di averlo avvolto in un fazzoletto e di essermelo infilato in tasca. Un po' più tardi sono salito in macchina e, poiché in tasca mi dava fastidio, l'ho messo nel piccolo scomparto sulla destra del cruscotto. Non ci ho più pensato, finché Lili, tornando dalla Roche, non ha aperto lo scomparto per prendere dei fiammiveri. Ha visto il fazzoletto, lo ha preso, lo ha aperto. L'ho ancora davanti agli occhi con il tagliacarte in mano che mi fissa con occhi spaventati. Evidentemente si ricordava di quei piedi intravisti la sera prima nel mio ambulatorio. Forse sapeva anche qualcosa di più, o forse sospettava che la sorella avesse una relazione. Ho fatto per prenderle di mano il tagliacarte. Che abbia frainteso il mio gesto? Non credo, ma penso piuttosto che abbia obbedito a un impulso irrazionale. Nel momento in cui io afferravo il tagliacarte dalla parte della lama, Lili lo ha lasciato andare e ha aperto la portiera. Neanche lei avrei avuto bisogno di uccidere, mi crede, vero? Sì, le credo. Poi, commissario, sono stato costretto a difendermi a causa sua. Emigre lentamente. Difendere cose. Ah, non la mia vita, e lei lo sa, né tanto meno la mia libertà. Vorrei davvero che lei lo capisse. Con un altro non ci proverei neppure. Se poco fa ho abbandonato la lotta, non è stato perché mi vedevo in pericolo o sentivo che lei era molto vicino alla verità, ma perché ho capito che ci sarebbero volute altre vittime, che ce ne sarebbero volute troppe. Mi è compreso. Forse. Non è stata la pietà affermarla. No, non ho più pietà. Era un'immagine incoerente, ma l'uomo che il commissario guardava vivere pareva svuotato di ogni sostanza, scorticato interiormente. Camminava su e giù per la stanza, beveva, parlava come un uomo normale, ma dentro di lui non c'era più niente, solo un'intelligenza che continuava a funzionare per inerzia, come la testa di un decapitato che a sentire alcuni continua a muovere le labbra per diversi minuti dopo l'esecuzione. A che scopo? Disse lanciando uno sguardo verso la porta che aveva accuratamente richiuso poco prima e di cui teneva in tasca la chiave. Uno scrupolo estremo lo spingeva ad avvicinarsi il più possibile alla verità. Tuttavia, senta, per quanto riguarda il ragazzo, ero quasi in diritto di farlo. Dovevo solo aspettare di coglierlo in flagrante e qualsiasi giuria francese mi avrebbe assolto. Ciò nonostante mi sono imposto il compito ingrato di far sparire il corpo e mentire. Il motivo, glielo dico subito, per quanto assurdo le possa sembrare, perché mi avrebbero arrestato comunque, messo in prigione per qualche settimana o qualche giorno. E in quelle settimane o quei giorni non l'avrei vista, non l'avrei vista. Sorrise questa volta con spaventosa amarezza. Poi si versò da bere. Questa è la spiegazione. Ed è andata allo stesso modo per la bambina. Lei l'aveva incontrata qui, commissario, e ho capito che l'avrebbe rintracciata, interrogata, e che attraverso di lei sarebbe arrivato alla verità, quella verità che per me significava sempre la stessa cosa. Non vederla, non vederla. La voce gli si strozzò in gola. Riuscì ancora ad articolare. È tutto. Ma non pote bere dal bicchiere che teneva in mano. Aveva la gola troppo stretta. Restò immobile, rigorosamente immobile. E anche Maigret rimase in silenzio. Giù sulla banchina passavano delle automobili. Da un momento all'altro una di queste si sarebbe fermata davanti alla porta. Poi nel corridoio si sarebbe sentita la voce del giudice istruttore. Se non fossi venuto in vacanza alle Sabla, disse alla fine Maigret con un sospiro. Il dottore assentì con la testa. Pensavano tutti e due alla piccola Lusil. Ammette che poco fa, subito dopo la mia telefonata, no! Il dottore riprendeva lentamente la padronanza di sé. È stato prima. Quando ho telefonato avevo già deciso. Ha pensato di uccidere sua moglie e uccidersi subito dopo. È così? Molto romantico, vero? Ma anche l'uomo più intelligente una volta nella vita ha avuto una tentazione del genere. Affondò due dita nel taschino del gilet e ne trasse una cartina piegata che porse a Maigret. Era per me. Farebbe bene a distruggerla subito. Una disgrazia fa presto a capitare. È cianuro. Romanticissimo anche questo. Confessi, pensava che non mi sarei lasciato prendere vivo. Forse. È per questo che fino a pochi minuti fa non mi toglieva gli occhi di dosso. È vero. Ci avevo pensato anch'io, sa. Lei non può saperlo, ma in una situazione come la mia si pensa a tutto. Si alzò, prese la bottiglia e tornò a posarla sul vassoio senza versarsi da bere. A che serve, disse. Poi, alzando le spalle, quell'idiota di Alain sarà qui fra poco. Non crederà né a me né a lei. Penserà che lo prendiamo in giro. Camminava per la stanza muovendosi a scatti. Ma io vivrò, ci puoi scommettere. Farò quello che è necessario per vivere. È assurdo, ma nonostante tutto conserverò una speranza. Finché sarò vivo, lei non oserà. Si morse il labbro, poi su un altro tono. Crede che mi salteranno addosso, che mi picchieranno o cose del genere. Lo diceva da uomo di mondo che rifugge da contatti volgari. C'è davvero tanta sporcizia nelle prigioni? Dovrò dividere la cella con altri detenuti? Megre stava quasi per sorridere. Lo sguardo del suo interlocutore si posava amorevolmente sulle rilegature preziose, sui soprammobili. Mi domando perché tardi tanto, esclamò Bellami impaziente. Non ci vuole più di mezz'ora per venire dalla Roche anche guidando ad agio. Andò alla finestra. Benché fosse ora di pranzo, sagome chiare, indugiavano sotto gli ombrelloni e qualcuno si tuffava nelle onde scintillanti come scaglie di pesce. È lungo, mormorò poi. Sarà terribilmente lungo. Si girò verso la porta esitante e alla fine sbottò. Su, dica qualcosa. Non vede che... che... In quel momento l'attesa scampanellata allentò la tensione. Mi scusi tanto. Fra l'altro mi rendo conto che lei non ha pranzato. Non ho fame. Aprì la porta con gesto disinvolto. Sali, Alain. Si sentì l'altro borbottare qualcosa mentre saliva e poi nel corridoio... Che diavolo c'è? Dovevo far colazione con un amico. Lo conosci anche tu. È Castaigne della Rochelle. Un saluto secco alla volta di Maigret. Che cosa c'è di tanto urgente? Ho ucciso il giovane Duffier e sua sorella. Cosa? Chiedi al commissario. Quest'ultimo fu investito da un'occhiata furibonda del giudice. Un momento. Non mi piace per niente che mi sii... Calmati un attimo, Alain. Sono stanco. Più tardi il signor Maigret ti dirà tutti i particolari. Troverai il corpo di Duffier. Un'esitazione. Forse era ancora in tempo. Con Alain de Folletier la vita di tutti i giorni era entrata nella biblioteca come una ventata. Gli bastava negare. Il colloquio con il commissario non aveva avuto testimoni. Non poteva chiudere la bocca a sua suocera come aveva fatto con gli altri. Qualche parola ancora e sarebbe stato troppo tardi. Ma quelle parole le pronunciò con il tono impersonale che avrebbe usato per illustrare un dettaglio architettonico. Prima che alle Zabla arrivasse l'acqua corrente avevamo un serbatoio sul tetto. L'acqua che doveva alimentare le stanze da bagno veniva fatta salire per mezzo di una pompa a mano. Il serbatoio è ancora al suo posto. E dentro c'è il corpo. Quanto al tagliacarte ho paura che nessuno lo troverà più. L'ho gettato in una fogna. Avvicinatevi. Guardate a sinistra verso la pineta. Vedete quei mulinelli sulla superficie del mare? È là che passa il canale che poi scarica le acque oltre il promontorio. Non vuoi bere qualcosa Alain? Senti! Per favore. Non so come si proceda di solito in questi casi ma l'idea delle manette mi fa orrore lo confesso. Portami via con la tua macchina e una volta alla Roche se ci tieni interrogami pure. Non oggi se è possibile. Poi accompagnami tu stesso in prigione. Quindi si rivolse nuovamente a Maigret. Devo portarmi dietro degli effetti personali? Usò un tono leggero ma dovette appoggiarsi con la mano al bordo del tavolo. Sbrigati Alain e il commissario andandogli in aiuto. Su faccia quello che le chiede. Bisognava ancora superare il corridoio e passare davanti a una porta bianca. Maigret camminava dietro i due. Bellamy si avviò con passo spedito e giunto davanti alla camera della moglie anziché indugiare accelerò l'andatura senza neppure volgervi lo sguardo. Andò dritto, scese giù per la scala e si fermò stupito egli stesso davanti all'attaccapanni sulla cui mensola erano posati diversi cappelli. Era vestito di blu scuro e scelse un cappello grigio perle. Quanto ai guanti, dopo un istante, decise di non prenderli. Francis si era precipitato ad aprire la porta. Un'uscita del tutto banale, come per una passeggiata. Un grande rettangolo di sole si delineò nell'atrio facendone risplendere i marmi chiari. La casa aveva un odore indefinibile di pulizia e agiatezza. Sulla soglia Philippe Bellamy si fermò esitante. Il tassì del giudice era fermo in attesa, accostato al marciapiede. Passava gente e si coglievano brandelli di conversazione. «Viene anche lei, signor Megret?» Il commissario fece segno di no con la testa. Allora il dottore mise la mano in tasca. Senza dire una parola, senza guardare il commissario, gli porse qualcosa e superò speditamente i pochi metri che lo separavano dall'auto. Non era difficile immaginare il giudice mentre, sbarazzatosi finalmente del poliziotto, prendeva posto sul sedile e dava sfogo a tutta la sua indignazione per quella commedia. Il motore si avviò. Il tassì filò via dolcemente sull'asfalto e nel momento in cui stava per girare nella prima strada, un volto si mostrò per un attimo e due occhi ardenti si fissarono su Megret ancora fermo sulla soglia. Vedendolo lì, Francis non osava richiudere la porta e infatti il commissario rientrò nella casa guardando la piccola chiave che Bellamiglia aveva fatto scivolare in mano. La chiave della camera dalle tende tirate in cui aleggiava il respiro regolare di una donna addormentata.